Allora io ho una locuzione Questa potrebbe stupire ma tranquillo è pattoale Deve metterla a cuffia? Cazzo la mignotta La piccola Mignotta è la figlia Mignotta è la figlia Io direi accarezzo Rimprovero Nascondo Vediamo che c'è un pericolo Tu cazzi la mignotta Nascondi? È vero Buongiorno e benvenuti alla nuova emissione De Bette alla Lumiere Sur la Cité No Sur la Civella Benvenuti alla nuova puntata di Il Lumiere a Osta Ci abbiamo provato fallendo miseramente Questa è È il primo tentativo ovviamente Esatto Siamo qui con Fabian Lussiana Marlène Giorrio Per imparare il patois E lo impareremo io e Alessandro Collura Ciao a tutti sono nuovo qui Sì abbiamo voluto invitare per l'appunto Due esponenti di un patois Molto conosciuto in Valle d'Aosta Per chi non lo sapesse il patois È una lingua che parliamo più o meno in tutto il mondo Ce l'abbiamo tutti il nostro patois Però ad Aosta è molto più forte Quindi Allora allora prima di tutto presentiamo i nostri ospiti Membri della compagnia teatrale Lady Gurdì Che significa? Indovina Entro fine puntata Io e Luca in autonomia riusciremo a tradurre Lady Gurdì Va bene va bene È difficile? È molto difficile Sennò alla fine ve lo diciamo Va bene Ok A fare fatto Compagnia valdostana di teatro popolare Quindi il patois è il dialetto valdostano Cioè è diciamo il cappello che racchiude tutte le varianti Ho detto bene? Sì 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 Patois è proprio dialetto Traduzione di dialetto Ah da qui patois significa dialetto? Sì non è il nostro patois Cioè patois vuol dire tantissime cose No lo sapevo Lo sapevo sì 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 È che volevo solo un attimo Tipo lingua minoritaria Tutte le declinazioni di lingue più piccole Lingua non ufficiale Lingua non scritta Lingua a varie interpretazioni Sì esatto Perché io ho sentito questa Che è una lingua che Chi si parla è vec le pat Parlata dal popolo con le zampe Qui da qui patois Perché è la lingua del popolo no? Chi si parla è vec le pat Ragazzi io ho già scoperto troppe cose Che non sapevo Io sono già pieno di informazioni Di patois e dialetto in di per sé Ufficialmente si chiama Franco Provenzale Franco Provenzale Io ho studiato E volevo proprio iniziare con questa domanda Subito per voi Ho letto Perché ho scoperto oggi Che abbiamo un sito Che si chiama Cioè del patois proprio Dove c'è un dizionario C'è un dizionario E c'è un translator come Google Cioè oggi ho cercato delle parole Non le ho sapute leggere Però puoi ascoltarle C'è una voce che te le dice Vedi Sono un uizio Sono così E però ho scoperto che È la lingua per l'appunto Che abbraccia un sacco di Cioè un sacco di popolazioni Intorno al Monte Bianco proprio no? Svizzeri, piemontesi C'è qualcuno che lo parla Tipo a Celle San Vito Qualcosa del sì Dov'è? Cos'è Celle San Vito? Dov'è? Provincia di In Puglia Sì in Puglia Salutiamo i nostri Amici in Puglia Osservatori di Celle San Vito Sì sì in Puglia ci sono due paesi Faeto e Celle San Vito Che storicamente dei soldati Appunto dell'area francoprovenzale francese Sono andati giù e si sono poi insediati Ragazzi non ho mai fatto una puntata In cui dopo cinque minuti dall'inizio Ho scoperto così tante cose Cioè Informativo Bene bene Ma siamo gemellati con Celle San Vito? No No Ci bisogna pensarci Andiamo giù Sì Possiamo fare la gita della compagnia teatrale Secondo me Andiamo giù Me la immagino Lady Burdi a Celle San Vito Presenta Zeleni in Fuga Benissimo Questo era un ottimo cappello introduttivo Direi che possiamo iniziare Allora l'obiettivo di questa puntata è Entro il termine della puntata Comunque io e Alessandro qui presenti Che non conosciamo una parola di patois Perché siamo nati nella city Figa Sì Siamo un po' milanesi L'obiettivo è che voi ci insegnate a sopravvivere A una situazione classica valdostana Cioè Siamo al baretto C'è il vecchio che beve il bianco fegmo Bravissimo Grazie Te l'hai detto elegantemente Sono alle nove del mattino Esatto Alle nove del mattino E tutti parlano una lingua a noi Totalmente sconosciuta Noi vorremmo sopravvivere In una situazione di questo tipo E vorremmo che anche I nostri amati ascoltatori Lo facciano Quindi questo è l'obiettivo Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per non perdervi Tutte le prossime puntate E Fete No Non si dice così Questo è francese Aspetta a fine puntata Con calma Non devo andare dritto Intanto facciamolo in italiano Mettete like alla puntata Che per voi è gratis Ma a noi Ci aiuta A crescere Possiamo iniziare Prima abbiamo detto che esistono Vari patois Cioè patois significa Dialetto Quindi insomma Esistono vari dialetti Variante Da una matrice unica Varianti Varianti Ma ci sono dei dissing Tra i vari Ahimè Allora inizio io Poi ti lascio completare Io sono un bi patoisan Si potrebbe dire Io parlo Sia al patois di Arnà Che è un comune Della bassa valle Che è il comune Con la connessione internet Più veloce Esatto L'aggiungiamo tra l'altro Perché lo lubrificano Con il lardo Connessione l'ardo più buono E patois della bassa valle Che è in contrasto È molto differente Della patois invece Dell'alta valle Perché è più influenzato Dall'italiano Dall'piemontese Mentre qui Diciamo da Saint-Bensin in su Si rifà un po' Di più al francese Per questioni geografiche Ovviamente E quindi sì Possiamo trovare tantissime parole Completamente diverse Magari adesso Io ne dico una Marlène Non so Io dico Che ne so La volpe Lo gorpèi Lo gorpèi Lo gorpèi Gorpèi Ma io vi faccio il lito È reina Cioè proprio completamente diverso Una è una renna L'altra è una renna Cioè non è simile No Però qui si capisce bene Perché in francese È renar Ah reina Esatto Invece Giù in bassa valle Gorpèi Perché parebbe Viene da Vulpicula Latina Non si sa bene Comunque più E quindi vulpicula Gorpèi Queste due belle Ok per adesso Io sono team Altavalle Non dubbio Adesso diventa più E tu combatti Cioè la tua anima Combatte tra queste due animi Quindi Cioè sei più Cosa parli Eh io sono un po' L'eroe dei due mondi Perché ho questa doppia vita Sia in bassa valle Che E quindi sì Ho veramente questa doppia anima Anche perché in valle d'Aosta È incredibile come C'è un grosso microcosmo Però diviso quasi nettamente in due Nella media valle Cioè la gente della bassa valle d'Aosta Difficilmente si spinge oltre Seven Sun E poi da lì in poi Inizia un altro No Ecosistema quasi Cioè proprio Ma cambiano anche i modi di fare Io dico Cioè secondo me Sono proprio diversi E quindi E quindi tu vedi il socio di Charvenso Gli parli Sì Io con lei per esempio Attiva il tasto Charvenso E quindi quando tu vai in Francia Attivi il francese Lui attiva il patois Quindi proprio non vi capite È difficile la voglia Dipende Dipende Io ho sentito Se non hai mai sentito qualcuno di Fenis Parlare in patois Quelli che dobbiamo prima mettere da parte Sono quelli di Cressonei e di Sim Mettere da parte in che senso? Signori di Cressonei Parlano un altro patois Non è il franco provenzale Parlano tedesco Ci credo che non li parliamo Ah va bene Quindi loro dobbiamo Discriminati Sì no dobbiamo subito escluderli Quindi dalla mappa adesso Disegniamo in nero sopra Non possiamo Non possiamo competere Lì proprio non si capisce Perché è proprio un'altra lingua Alla fine C'è proprio un altro dialetto Fino adesso avete sentito Poche parole di patois Quindi io voglio fare Esattamente l'antipatico Che in quei momenti Quando in una compagnia Qualcuno scopre Che qualcuno sa una lingua Particolare Tipo Tu sei il cinese Oh ma mi Mi dici qualcosa in cinese Che poi quel qualcosa Che ti metti Cioè magari lo sai il cinese Ma cosa ti devo dire Ma cosa dici Non lo so E quindi non sai mai cosa dire Quindi noi vi faciliteremo Questa cosa E gli chiederemo Delle cose specifiche Sì Vi faremo delle domande specifiche Ovviamente discusso Per esempio Allora io parto da quelle facili Perché abbiamo dei dubbi Come si dice Pattumiera Però io vorrei delle frasi Allora aspetta Vado giù a buttare la pattumiera Vuba a tapé limondiscia Vuba a tapé limondiscia Limondiscia Immondiscia Immondiscia Ok Va bene Un altro esempio Un altro esempio Io invece Io Esempio di vita quotidiana Ah quello che ti succede tutti i giorni Ad esempio Ho preso una poltrona Da una gru Come si dice Questa è una scena di vita Eh ma è stata tanto su cose che in patuà Eh perché poi certe parole che non servivano al tempo Non le hanno inventate Ah perché il lessico è solo incentrato tipo sulle cose molto valdostane Eh la gru non c'era Tipo la gru Però il carretto Il carretto ci siamo Quindi ho portato la mia poltrona Ho montato una poltrona su una mucca Questo Cioè per forza Poltrona non mi viene in questo momento Ho montato una forma di formaggio Su una mucca Vado Vado eh Questo no Nibetù An forma del formaggio Desi navazzo Desi navazzo Questo è importante Quindi sopra è desi Desi Sì Ungoppa sarebbe Ungoppa Per farci capire Per farci capire Delle amici di San Vito Anche se non è proprio quella Non so San Vito Dicolo proprio Ungoppa Non è proprio lì Va bene Abbiamo fatto degli esempi Ok quindi ha delle risonanze di francese Misto a italiano Misto a Boh Però essendo popolare Questa è una cosa interessante Quindi tipo le cose di adesso Cioè che ne so Telefono Telefone Noi ci proviamo Allora Nelle PS quando recitiamo Ci abbiamo provato a diventare un po' di Qualche parole Per Ma sono accettate Dalla comunità È difficile spiegarle Nel senso L'anziano signore di 80 anni Che lui Parla il patois Vero Non come sti giovani d'oggi Che non sanno Che sono vergognosi Ecco Accettano queste Allora Loro Hanno anche vocaboli Che noi stiamo perdendo In virtù di una italianizzazione Sempre più forte Perché magari a noi Non ci viene più comodo Dire certe cose E quindi prendiamo tipo telefono Telefone Beh telefono non c'era Quindi ok Altre parole Non so Mi viene in mente Colazione Adesso si inizia a dire Colation Ah io la sapevo così Però in realtà è Dijon Che viene da Petit Dejeuner francese Però si sta un po' perdendo Però quello che dice Marlène Noi a volte cerchiamo di Ributtarle dentro Nelle canzoni Nelle PS Giusto per Cioè quindi ve le state un po' inventando Sì tipo La mia preferita è Grou Cana Rusa Grou Traduzione Cana Provate a indovinarlo Cos'è Grou Io direi l'animale Io direi Grou Eh ci siamo quasi Grou è grande Grou Grosso Cana Canale rosa Cana 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 D Sì Un grosso piccione Papera No Anatra No Canar Canarino Rusa Rosa Rosa Rossa Eh quindi Un gru canale rosa Un grosso Fenicottero rosa Bravo Mamma sei troppo Un madone 1 a 0 1 a 0 Ok Un grosso fenicottero Perché fenicottero Giustamente in balle d'aosta L'animale tipico Dopo la renna Esatto Dopo la renna Visto che siamo su questo argomento Io mi ero preparato alcune parole Che vi dico Che sono in patois E voi però dovete dirmi la traduzione Vabbè E sono tipo i falsi amici Ok Ok In patoisi dice Sono trenta Sono trenta Le falsi amici Va bene In patoisi dice Falsi amici Micio E da me No Cosa che hai detto? Lo micio Non è chiaramente il micio Cioè il gatto Ma forse è il gatto Lo micio Direi il La Casa mia Sì Bravo Ma perché? È la casa Viene da micio No Viene da me Viene da micio È la struttura Non è È la struttura Però è casa mia Bravo Quindi un punto a lui Un punto con l'ora Va bene Questa è bella Maenda Merenda La mia azienda No Non è merenda Per l'appunto Maenda Rimaniamo sul cibo È una delle fasi Merenda No No Allora Doppia X Alla terza Di te elimina Continuiamo Cena No È più indietro C'è più Colazione Antecedentemente La colazione L'abbiamo detto prima Antecedentemente parlando alla cena è la merenda Quindi è il pranzo No è il digestivo È il pranzo È il pranzo Cioè maenda è pranzo e merenda? Bengio Bengio Eh già Tipo bengio Però qui c'è un aneddoto interessante Alta e bassa valle Perché maenda lo diciamo qua In bassa valle si dice Denis Per dire il pranzo E chiaramente quelli della bassa valle Come sei stato traviato tu Pensano che sia la merenda Ah quindi anche Siamo della bassa valle Mia mamma mi aveva raccontato Che con la Con sua socia Che è di qua Alta valle Mi mamma a bassa valle Dovevano incontrarsi Amaenda Morale Mia nonna Si è messa a fare la polenta e cinghiale Mia mamma è arrivata Le quattro di pomeriggio Con la crostata E hanno mangiato tutto insieme Hanno fatto il brunch Hanno fatto un po' Un po' Ma e quindi Ecco una cosa importante Io questa cosa non la so In modo definito Dipende da con chi parli Perché parliamo di alta e bassa valle Ma per i nostri amici Cioè perché io alta Penserei verso l'alto E bassa verso il basso Ok giusto Giusto Ma dov'è la linea? Dov'è il confine? Da dov'è che si inizia la bassa valle qua? Da dove cambia il patois? Ah da Nus Lei dice Nus Sì io direi Saint Vincent Perché taglia proprio a metà Quindi Saint Vincent Però un po' il patois inizia a cambiare Effettivamente da È sfumata Cioè C'è un po' una linea Sì una zona grigia È un po' E a Osta che cos'è tra l'altro? Noi siamo un po' Grigio Figa Osta C'entrano C'è il fatturato C'è il business figa Qui si è fattura Quello di Aosta Diciamo potremmo dire Un po' più patois degli altri Adesso non me ne vogliano Questo solo per dire Che alcune canzoni Magari passate alla storia Di come Lo campagnare Quella che fa Noi la Sono tutte le mattine Io sono come sveglia Sono scritte In questo patois qua Poi anche le canzoni di Gurdì Voglio dire Quindi insomma E quindi c'è nel senso Almeno due grandi artisti Ma anche Entrò Emaville Sar Chagvance Gressan Abbiamo Ok Più o meno Cambiano Poche parole Tutto per Aosta Insomma Adesso Io vorrei Io mi sono segnato qui Perché io ho la scaletta Di questa Che ovviamente Non stiamo rispettando Ma poco importa Io vorrei Una breve lezione Accelerata Di patois Ovviamente Non si può insegnare Una lingua In venti minuti Però Concentriamo l'analisi Alla situazione Barretto Ok Quindi Come si costruisce Una frase in patois Quindi se ci sono Delle cose universali Che noi possiamo imparare E poi Vocabolario Utile A quella situazione Apro Entro in questa porta C'è questo ragazzo Sicuramente Per l'appunto Queste qua Con questa barba lunga Dietro al bancone Amvinazzato Bravissimo Questa camicia Un po' sbottonata Alle nove meno un quarto Del mattino E mi chiede E mi dice Come mi chiede Cosa voglio da bere Thank you to the beer Thank you to the beer Non credo proprio Non penso nemmeno io E io però Cioè lui Non si aspetta da me Che io possa parlare italiano E quindi devo parlare Per forza in patois Come inizio? Cosa gli dico? Intanto Che hai sete Ok Quindi? Ni sei Ma perché ni sei? Ni Ni è un problema E io Non ve lo spiego Ma ve lo spiego Fabia Il verbo avere È complicato Ah ni è verbo avere Sì Sì c'è questa particella N davanti Spesso viene messa Alla n No 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 Perché è Me Ni Te Ta Li La Non 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 Ho citato La Divina Commedia In un'altra lingua Probabilmente Potrebbe averti falsa dire Qualsiasi cosa Adesso mi hai fatto insultare Mi trovo qualcuno sotto casa Esatto Vabbè Ok Ok quindi Ni Sei te No Sei Sei Ni sei tu Va bene Quindi capiamo Verbi principali Verbo avere L'abbiamo imparato Ce l'abbiamo È nostro Ok È verbo essere C'è la parte cella anche nell'essere Deve essere Messì Messì Tetti Gli le Ah gli le ce l'ho Non sei No io non sto capendo niente Allora me Io Si Si Sono Te Si Ti Tu sei Mi sono perso qua Tetti Tu sei Io Gli le Gli le E che sono due articoli uguali E gli è Sì Gli le Gli le No sen Ah no sen però No sen però ce l'hai Noi siamo Vosè No questo è Vosè Vosè Ah sì Vosè 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 Ah perché voi siete Vosè Ok E le son Le son è come in francese Le son Ah Però senza la R Senza la R Le son Le Le Ok Una R che va a quando si Le Le Come io al bar che voglio bere che sta qua E per adesso gli ho fatto il verbo essere E quindi sono là Lui mi parla E ho detto ho sete Quindi la prima cosa che gli dico ho sete E che abbiamo detto che si dice Ah magari inizia con bonjour Ah ecco Bonzo 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 Questo Bonzo Mi sei Ni sei Ni sei Hai ragione Io te l'ho detto che secondo me c'entra col giapponese Bonzo Ni sei E lui ti risponde Senche voglia de beye Senche voglia de beye Cioè cos'hai voglia di bere Sì Madonna Quindi senche cosa Sta funzionando Senche cosa Sì Quindi con senche possiamo fare cosa vogliamo adesso Voglia Voglia Vuoi Esatto Beye Bere Beye Bere Ok senche voglia de beye Voglia de beye Ah de da bere No voglia Voglia de È per Ah de do È tutto in Voglia Educazione Voglia de Sì Tutto da attaccato Ok quindi io ho detto Io ho sete Mi hai chiesto cosa voglio bere E adesso devo decidere cosa voglio da bere Sì E tipo voglio da bere E noi vogliamo la bevanda tipica valdostana La Fanta Sì No un torretto Un torretto Perché sono le nove di mattina Sì È già tardi Esatto Cioè un bianco o il torretto Un torretto o un genepì Caldo Io dico genepì Genepì anch'io al mattino vai Va bene E quindi siamo là Voglio un genepì Veye Vuio Vuio Perché sono io Vuio No Oppure Vurio Se vuoi Vorrei Vurio Però la R Non va bene R Perché sarà Vurrio calabrese Giusto Vurrio 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 No Vur Vurrio Ma io ce l'ho sempre anche in italiano Quindi Fox è Tu ce l'hai fissa Vurrio C'è anche lui Sì sì Vurrio Vurrio Quindi Vurrio Vorrei io Sì De Belge Un genepì No scusa Un genepì Un genepì Facile Quindi Vurrio un genepì Vurrio un genepì E lui ti risponde A stowa di Matteo è un gringo Allora gringo è tipo Uomo No ma è Non si dice Gringo è tipo Mascalzone Sì sì ma non è in patua Ok E questo È tipo Però è un po' nel Nel mood No no È nel mood Bar di paese Abbandonato Ok Ok Quindi siamo lì effettivamente Lui mi dice A quest'ora del mattino Mascalzone E noi rispondiamo Uè Giusto Uè Perfetto Niente da dire E lui non ci può più dire niente Ci devono essere il genepì a questo punto A questo punto avrete Il vostro genepì Sì A questo punto avrete il genepì Ok Me lo beviamo il genepì Ma ne vogliamo un altro È solo un to A questo punto siete autonomi Ne No Nevuria Vurì 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 O Vurio Vurì È un altro non so noto Egnatro Egnatro È come Egnatro 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 Quindi noi dobbiamo pensare al francese E poi Ma non sempre Qualche volta viene Prova è la cavata abbastanza col francese Navurio Egnatro Più che altro non suona male Se usi il francese Lo nascondo Più o meno Vieni accettato Esatto Da quella micro società È la carta Magia Se parli italiano Fuori Sì Sì Poi in questo tipo di bar L'altro subito ti dà Guarda Non ce l'abbiamo Il genepiella Non compriamo niente Non abbiamo pagato Non abbiamo ancora pagato Che genepie si sa costa 2,50 euro In centro In centro a questo posto dove siamo al barretto di paese di Pombosè 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 I like it Quanto ti devo Quanto ti devo Perché veglio Quanto Quanto L'avevamo visto prima Veglio No Sembra Sembra puria Quindi Veglio Veglio te deio Veglio te deio Veglio te deio Sì fa anche rima È facile Veglio te deio Veglio te deio Quanto ti devo Sì E lui fa 2,50 euro Così facile Puzzo e dico Puzzo È indifferente Sì Ok Io Puzzo ho sempre pensato L'ho scoperto recentemente Che non è il pugno No è il Puzzo È il Puzzo È il pollicione Sì Quindi Puzzo e pollicione Va bene Secondo me 90% delle situazioni in Valle d'Aosta Sono risolte Vedi che col verbo volere Secondo me Se ce l'hai già un po' Ho sete Ho fame Sì Ah voglio bere Quindi abbiamo detto Vurrio beye Beye Mangiare Mengi Mengi Ok scusami Luca Ma almeno ce l'ho con le base C'hai ragione No l'ultima cosa di cui potremmo aver bisogno È di andare in bagno Quindi Allora Ce l'abbiamo in autonomia Poi al massimo chiediamo le parole Nu Perché vogliamo andare insieme E se vogliamo andare insieme Perché lui mi tiene la porta Esatto Nu Vu Remo Réian Réian An Vu reian Vu reian Nu vu reian Alle O toilette Toilette sono i chess Che è più I chess È il nuovo prodotto della E I bens è proprio se è in centro a O Ma sono i chess I chess Nei paesi così Quindi Nu Vu reian Vu reian Alle I chess Perfetto Ensemble 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 Cioè il patois Cambia le vocali Siamo più facili Sì però Si cambiano le vocali A cazzo Possiamo dirlo Cioè Ma poi tra l'altro Ma non tutti utilizzate Vu reian Secondo me qualcun altro Degli altri patois Utilizzare la A Al posto della O La P È la che vi ha ammazzato Tipo io dico sempre a mia nonna Vuoi una persa E lei mi guarda Una persa Sì Ma è solo perché lei dice Perso Anziché persa Ci stava dicendo I post Che probabilmente Si dica Al posto Ok Ma per una vocale Mi insulta Eh vabbè Ma se tu vai dalla nonna E non rispetti la tradizione Eh ma la mamma Lo dice in un altro modo Eh ho capito La mamma e la figlia Tu sei l'ipotina E gli è giusto Come dice Basta Ok sentite una cosa Allora vabbè Adesso possiamo Siamo pienamente esperti Metteteci alla prova Fateci tradurre Non solo delle parole Le frasi Allora io ho una locuzione Attenzione Va bene Va bene Questa è bella tosta Poi andiamo alle frasi Va bene Questa potrebbe stupire Ma tranquilli E patoane Allora Pronti? Ah devo mettere la cuffia Stai scherzando Cazzo la mignotta Ah cazzo è cazzo Allora Io direi A carezzo No La piccola La nipote Mignotta è la figlia Mignotta è la figlia È la figlia E cazzo Che già comunque Un po' E cazzo è la figlia E direi che Bug deadline Cazzo la mignotta La L'ho persa Cazzo la mignotta La mandoglia No La rimprovero No Cazzo la mignotta Questa puntata No Mignotta È figlia È completamente legittimo È figlia De inchie Giusto? Che poi è Mignotta Mignotta Quindi è un po' più Ci trovi Anche lì con le varianti Delle vocali Mio nonno diceva Tranquillo Mignotta Finalmente Valdostano Non è sicuro Hai un'altra locuzione Per metterci alla prova? No Insomma lui diceva Che prima C'entrava un po' Con il giapponese E effettivamente Ho una locuzione Di nuovo Del patois Di Arnà Stavolta Che potrebbe sembrare Adesso Dov'è questa cosa qua? Si dice Lo dico io Poi ripetete voi Aia yuye Hihohe Mi sta prendendo per il cuo Te lo giuro Non è vero È vero Giuro Aia yuye No Non è molto respirato Aia yuye Hihohe Hihohe È proprio la respirata Tipica della bassa valle Aia Scusa Che cosa significa? Adesso Dov'è questa cosa qua? Tu non trovi una cosa in casa Fai aia yuye Dopo che quando sei aggabbiato Immagina Mentre invece Usciamo dalla situazione Barretto Vita di tutti i giorni Noi potremmo In valle d'Aosta Incontrare Una ragazza O un ragazzo Che ci interessa No Che però parla solo patua Come faccio? La inviti al bar Di prima E così poi sai già tutto Prendi due genepin Invece Due genepin E voilà È vero Però devi invitarla Te ve Te ve Te ve Lo stai chiedendo giusto Non è che dici Due genepin Beye Te ve beye No no Vuoi Così Vuoi due genepin E due genepin Ti ne vai Mi lasci questi due genepin Se ne vai via Te ve Te ve Beye Beye Te veye beye Ti voglio bere No Ah no Vuoi bere Giusto Potremmo tenerla più vaga Noi diciamo spesso Te ve me beye un crepe Un colpo A vuoi me Sì Un crepe Un crepe Che non è una crepe No Vieni a bere qualcosa Vieni a bere un colpo Letteralmente Te ve me beye un crepe Ah Vuoi me Ok E poi si decide dopo Sì E lei gli può rispondere no In italiano In patua E non viene O lui No com'è No 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 Vedi tu hai detto che basta No E vedete Cambia la vocale No credo che sia l'unica parola Che mette d'accordo tutti i patua No Penso che non si dica Nel timo Comunque posso dire Sì è controverso Uè uai Uè uai Uè uai Uè 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 Quindi lei mi ha detto Lei lui Chi è Mi ha detto uè E io quindi la porto al bar Sì Vabbè Poi l'abbiamo già vista Come lo faremo Gerebbe Che bella Dai dì Che bella Che bella Che sei Possiamo accompagnarla in bagno E tenerle la porta Sì Dicendo Chiedendo al barista Dov'è E che andiamo insieme Esatto Possiamo pagare Quindi beh Però devo dirgli che bella Però è un complimento Infatti Esatto Sì dai Se no scappa Facile è Giulia Giulia Se vuoi usare la sconciatoia Giulia Giulia È bella Ah bella Sì Però non è che si usa troppo Sennò devi dire zenta Zenta Bello zenta Zenta bello Sembra argentata Zenta Zenta Te zenta Zenta T Letteralmente Quindi è bella Zenta Sì Quindi sia Giulia Che zenta Sono bella Però zenta è proprio Zenta è più ufficiale Giulia C'è Sei carina No ma c'è qualcuno Che lo usa Ma non è così Però zenta Magari non ti capisce Dipende Cioè vuoi darti un tono Dici Giulia Se no vai sicuro con zenta Ok Quindi allora Ragazzi da casa Di celle Ragazzi di Di celle Sambito Esatto Diciamo zenta Da oggi in avanti Mi raccomando Quindi zenta E Ti è zenta Ti zenta Ti zenta Non te zenta E poi E basta E poi E poi Per forza Ti dice Uè E basta Ed è fatta Perché lei non si ha capito Come risponde C'è solo Ha pensato lo sforzo Ok Siamo quasi arrivati A fine puntata Adesso siamo esperti In patois Ovviamente Quando uno va All'estero Oppure Quando viene qualcuno Che non sa l'italiano La prima cosa Che insegniamo noi Non sono Le parolacce E noi siamo un po' Gli stranieri del patois In questo momento Esatto Quindi noi Quanto meno Parolacce Parole equivoche Cose che possono tornare utili Allora Ve ne diciamo una Che si può utilizzare In quanto non è così offensiva Se uno vi sta su In quel posto Sì Tu gli dici Ma vato e gratte Che significa Vai a grattarti Sì Che è un po' come vai Così Come vacca chi Come vacca chi Sì Però ma vai a grattarti È bello Vato e gratte Ma vato e gratte Vato e gratte Poi se vuoi continuare Scegli cosa si gratta Ah dici cosa Sì Ok C'è anche Vato e fai Wondre Vai a farti vedere No No Ancora meglio Vato e fai Vato e fai Vato e fai Ti menaghe Sarebbe Questo è cattivo Però Sì Wondre Cioè vati a far far male Da qualcun altro Perché io non mi sporco le mani Esatto Oppure altre cose fondamentali Del linguaggio Tutti Questo vogliono saperla Allora Tanto Poi ce la chiederanno Nei commenti Allora vogliamo sdoganarla Se parliamo di anatomia Ok C'è una parte in particolare amata Abbiamo fatto da bere tutto Abbiamo capito come è andata Siamo arrivati Nel momento clou Nel momento clou Dopo due GNP E lui Lui chiede a lei Lui chiede a lei Mi fai vedere qualcosa Cosa dice? Mi fai vedere là? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Direttamente Cioè così si fa? Cioè Mi valutò te Un fanno così? Diciamo che ho saltato qualche tappo Però Dobbiamo arrivare lì Però Siamo teletrasportati direttamente A dopo sette GNP Facciamo finta Siamo tutti carichi Siamo sul lato E lui vi chiede Fammi vedere là Siamo sul cassone Come le le vagabond Ok E poi La frattitica domanda La Bagabletta Mi fai vedere la bagabletta? Aspetta Facciamola tutta bene Mi Mi fa Vei No Mi 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 fei Vei Tu me fei Tu me fei Tu mi fai Tu me fei Vei 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 Te Tu me fei Vei Ta Bagabletta Ta giusto? E' poco romantico Ah e' poco Ok E' poco romantico Quindi è una cosa un po' Ma scusate Etimologia della parola Possiamo Sì E' una locuzione Di nuovo Che si costituisce Di due parole Lui quando dice delle porcherie Mette locuzioni in mezzo Perché ci sta Ci deve dire adesso Che adesso Cazzo sporco Eh ma perché c'è qualcuno Che si intende di grammatica Che ci ha pensato Almeno possiamo Quindi locuzioni Baga Si costituisce da Baga e più bletta Baga è cosa E bletta È bagnata Quindi cosa Quindi c'è spazio Anche all'immaginazione E dopo questa perla di saggezza Direi che possiamo chiudere Questa puntata Però c'è Ci siamo lasciati Con un elemento Cioè all'inizio Ci avete detto Di Gurdì Scoprirete a fine puntata Che cosa significa Adesso in teoria Dovremo avere le basi Per capire che cosa significa Esatto Provate un po' In vista che non ce l'abbiamo Allora Dateci un aiuto È una parola O è una locuzione È una parola È un aggettivo Qualcosa che si può riferire Al fatto di come è una persona Di Gurdì Di Ma è un aggettivo È un aggettivo Ok Compro una lettera Vogliamo un aiuto Aggettivo Ok allora Un altro aiuto Qualificativo Vabbè Goloso Simpatico Ma Ingordo Mangione Non c'entra niente Non c'entra Allora pensa a noi Cosa diresti Svegli Svegli Gli svegli Sì è un po' tipo Agli svegliori Allora è un contenitore Di locuzione No Diciamo che sì Simpatico ci sta dentro Sveglio ci sta dentro Sul pezzo Tutto vuol dire Sul pezzo Sì è un po' Tion di Gurdì Sei uno che Ah sei successo Sei successo Esatto Anche un po' furbo Che la capisce un po' Sì una volpe Esatto Diremmo una volpe Sedi la volpe Un Gorpè No un Reynard Un Reynard Stavo per dire proprio Reynard Va bene Quelli che hanno anche Non dicono mai c'è in più Ma che a volte Appunto Vogliono fare anche un Vabbè Un po' cacciara È tutto Ok Tic e track e bombe a mano Ma in francese esiste Tic e track E bombe a mano No Questa è la terza Ah vabbè E con questa direi Abbiamo chiuso la nostra puntata Grazie per averci seguito Instagram Le di Gurdì Sì Sì Ha scritto D-H-E Perché voi siete un po' Ecco perché poi si arrabbiano No se no Stamitolo C'è l'elocapo Non ce ne appicchiano Stamitolo C'è l'elocapo Invece con il D È tutto Ce l'abbiamo Quindi D De di Gurdì Vabbè abbiamo capito Basta Scusate Grazie ai nostri ospiti Grazie a voi che ci avete ascoltato E noi ci vediamo Alla prossima puntata Di Luminosta Che si dice? No dai Dittemelo voi Grazie a voi Ciao Ciao!